La stagione che sta per iniziare rappresenta per noi il punto di arrivo di un percorso importante, visto l'obiettivo ambizioso che ci siamo posti come gruppo di sviluppare al meglio il nostro prodotto, la Power Unit. È stata una sfida intensa ed entusiasmante, tutti i componenti della Power Unit sono stati rivisti, alcuni ulteriormente ottimizzati, altri decisamente innovati. Siamo partiti dal concetto primario di cercare la più alta efficienza nel processo di trasformazione dell'energia, da quella chimica del combustibile a quella meccanica all'albero motore. Tutto il resto è stato progettato in modo funzionale a questo obiettivo. In modo tanto funzionale abbiamo poi definito un layout della Power Unit che rispondesse al meglio alle esigenze dei nostri colleghi dell'area telaio, vista l'evoluzione del nuovo regolamento vettura. Lo abbiamo fatto con passione, determinazione e spirito di squadra, consapevoli della responsabilità di onorare al meglio non solo il nostro obiettivo di gruppo, ma anche lo spirito dell'intera scuderia che celebra quest'anno il suo 75esimo anniversario.